Buongiorno a tutti amici, sono qua per presentare un prodotto che è veramente spettacolare e voglio con questa dimostrazione soddisfare due categorie di clienti. Il primo è quello che vuole risparmio, ci sta, ci sta tutto il risparmio, però pensiamo un po' anche a non inquinare l'ambiente. Oggi penso che sempre più persone ne siano al corrente del danno che crea il nostro pianeta. Quindi partiamo subito con quattro prodotti, me ne manca uno che non utilizzo più da qualche tempo, infatti questi qua li ho smesso di utilizzare anche questi, mi è rimasto un po' ciascuno, questo addirittura ancora pieno, questo anche. Mi è capitato di finire il mio prima di provare questo, meno male, non l'ho più comprato, risparmiato, attenzione, risparmiato. Ora prendiamo tutti questi prodotti per i piatti, siamo fuori, guardate quanta plastica abbiamo da buttare qua, prodotti per vetri, pulire vetri, superficie in cristallo, prodotto per il legno, buttiamo, prodotto per inox, lucidare inox, buttiamo, ora vi voglio presentare un prodotto che sostituisce meglio di quelli, cioè sostituisce tutti quei prodotti e ne fa meglio di quelli dedicati ed è un prodotto multiuso, con un prodotto di questo in casa sostituite tutto quello, non abbiamo più tutta quella plastica da buttare. Guardate, LOC, liquido organico concentrato, cosa vuol dire? è un liquido organico, non inquina, quindi qua sto cercando di soddisfare una seconda categoria che ci pensa un po' di più all'ambiente, ma anche alla vostra stessa salute, perché chi ha bambini in casa, animali in casa, sappiate bene che i prodotti che utilizzate, qualsiasi prodotto che acquistate in supermercato per pulire il vostro pavimento, spargete velleno sul vostro pavimento. Avete bambini che gattonano o anche bambini piccoli che giocano per terra, le mani per terra, se lo mettete in bocca, sta ingerendo veleno. Attenzione a questo ragazzi, non c'è da scherzare. Comunque vi voglio dimostrare, questo appunto è un liquido organico concentrato, ok? Il prezzo, sappiate che prendendo questo prodotto avete già speso meno di tutti quei prodotti messi insieme e con questo prodotto che è concentrato, utilizzando uno spruzzino come questo dedicato, utilizzate mezzo litro d'acqua, cacciano una tacca e si inserisce mezzo litro d'acqua e una sola erogata di questo prodotto. Lo fate sciogliersi bene nell'acqua, potete pulire i vetri, migliore, avete una resa migliore di quello dedicato. Potete pulire l'inox, fantastico, fantastico lino sconquosto. I pavimenti, prendete un secchio d'acqua, 4 litri d'acqua, una erogata di questo prodotto, pulite più di 100 metri quadri di pavimento, ok? La cosa che ci tengo veramente più è che quell'acqua, il residuo dell'acqua, della pulizia del pavimento, la potete usare sulle vostre piante, innaffiate le vostre piante, con i prodotti che avete usato per pulire il vostro pavimento, perché appunto è organico. Ora vi farò una piccola dimostrazione dell'efficacia di questo prodotto. in questo caso utilizzerò grasso, sapete com'è difficile pulirsi qualsiasi cosa da grasso, specie che è mandato da un meccanico, vediamo il meccanico con le mani tutte nere, cosa va utilizzare questo meccanico che pulisse le mani? La pasta, la pasta, quella pasta abrasiva, rovina le mani, troverete le mani secche, anche chi dovete guardare questo video meccanico con un barattolo di questo, solo per lavarvi le mani dopo il lavoro, solo per lavarvi le mani, vi dura minimo tre mesi. 90 giorni di prova avete, 90 giorni di prova, non fa quello che viene detto, mi restituite, no a me o alla persona che vi ha fatto vedere questo video e vi sarà restituito di denaro, anche a barattolo vuoto, siccome ha garantito 90 giorni perché funziona. Ora vi farò vedere una piccola dimostrazione con del grasso, metterò un po' di grasso sulla mia mano e la spalmo bene. Nel frattempo che io faccio questa dimostrazione vi do altre informazioni. Praticamente cambiando i vostri prodotti, utilizzando dei prodotti come questi organici concentrati, veramente risparmierete una marea di soldi. In un anno abbiamo stimato che una famiglia che sostituisce i suoi prodotti classici per la pulizia di casa, ma anche l'igiene personale. Questa azienda produce dei prodotti veramente particolari. Prima di tutto, che ci tengo di più è Sara guarderà l'ambiente. Ora, io ho la mano grasso, non volevo provare con quelli perché alla fine mi vado solo a insozzare di più la mano. Vi faccio vedere una piccola erogazione che io la vado a spalmare. Io spalmo praticamente questo liquido concentrato e ne ho messo anche fin troppa su tutta la parte sporca di grasso, difficile da togliere. Spalmo molto bene e nel frattempo vi informo che esiste un modo più intelligente di fare spesa. Senza dover uscire di casa, questo prodotto viene consegnato in casa. Quindi non solo questo, c'è una gamma vasta di prodotti che potete chiedere alla persona che c'è sopra che vi ha indicato questo video. Adesso vi faccio vedere. Io ho solo spalmato il prodotto su qualsiasi parte grassa. Quindi su un pavimento un'erogata di questa, avete visto l'erogata, su 4 litri d'acqua pulite più di 100 metri quadri di pavimento. Ma ve ne accorgerete da soli perché una volta che avete pulito il vostro pavimento con questo prodotto, la cosa più spettacolare che ho notato subito è che come gli altri prodotti, a parte che erano dei velleni, però appena mi capitava di camminare con le scarpe su un pavimento appena pulito, minimano le orme di polvere. Quella piccola polvere che rimane sulla sola della scarpa, lavate con questo prodotto, provatelo, avete 90 giorni di prova, sarate restituiti tutti i denari al 100% se non soddisfa quello che diciamo. Quindi una volta pulito il pavimento, camminateci sopra, anche con una stampa di polvere, vedrete che la polvere rimane sulla scarta non rimane sul pavimento perché crea uno strato sottile, una piccola sottile, non vi so ancora spiegare come, ma è una cosa che ho notato, veramente evito di lavare il pavimento più spesso. Ora il prodotto si trova sulla mia mano insieme al grasso, il grasso già si è sciolto, non si vede, adesso ve lo faccio vedere. Spero che me ne esca perché se no mia moglie veramente mi fa fuori, li avrò sporcato un tovaglino. Comunque adesso potete vedere, semplicemente il grasso se ne va via. Non ho bisogno di sciacquare le mani, è un prodotto che non fa male alla pelle perché è completamente organico e bioregradabile. Ok, ora ho le mani pulite senza dover sciacquare, fantastico. Dove si trova il prodotto? Il grasso, si trova qua dentro. L'azione più bella, oltre ad avermi pulito la mano dal grasso in modo facilissimo, senza pasta abrasiva, insomma senza rovinarmi anche le mani, la parte interessante è quella. Io metto l'asciugamano, insomma che ho usato per pulirmi le mani, in acqua, qua c'era solo dell'acqua, e lascio un po' agire per un minuto circa in acqua. Lo potete mettere poi in lavatrice, lo potete mettere insieme ai capi bianchi, insomma veramente un'infinità di uso. E avete visto che un prodotto solo, evito di comprare altri cinque e non solo, ci sono altri usi. Tanto quando vi arriverete, se decidete di acquistare questo prodotto, anche in prova, appunto avendo 90 giorni di garanzia, vi verrà data insieme una piccola guida degli utilizzi. Cioè in base alla quantità, insomma diluiti in acqua, in una certa quantità di acqua, avete diversi utilizzi. Come ho spiegato prima per il legno, per il vetro, per l'inox, pavimenti, non solo, piatti, mettete una goccia di questo sul lavandino pieno d'acqua, con tutti i piatti dentro, avete già lavato tutto. E veramente senza l'olio di gomito, perché qua non c'è l'olio di gomito, qua non c'è la fregatura, altrimenti non ci sarebbe 90 giorni di garanzia. Ora vi farò notare, ricordate l'asciugamano come era nero? Non l'ho strofinato, ho solo tolto l'acqua e rimesso l'acqua. Guardate questo. Insomma amici, non pensateci tanto, acquistate subito questo prodotto, salvaguardate l'ambiente e risparmiate. Contattate la persona che vi ha indicato questo video e vi darà tutte le informazioni necessarie. Un grosso arrivederci e sperando di incontrarci magari un giorno. Ciao!